A presto Dov'è vero che siete un diavolo? Non sono un diavolo, sono un pittore. Mia colpa, mia colpa, mia maxima colpa. Io non sono una buona figlia, ma io ho bisogno di essere libera. L'Europa è at worka. Siamo la rivoluzione. Tu vuoi giustizia e pace per gli esseri umani, ma che umani siamo se non proviamo compassione? Non è bello.